si parte giro dell'ora di pranzo occhio agli ostacoli si va verso lo strappetto strappo 10 per cento una volta saliti fatto lo strappo bisogna staccare la bici ritornare indietro non si può andare dall'altra parte mettiamo a cavallo o qualche rix secondo giro adesso allunghiamo rispetto a prima siamo qua dopo ci facciamo un bagno in piscina tiro un po di vento oggi ma è a favore per fortuna prossimo giro provo a fare il com poso il telefono andiamo dopo faccio un'oretta di rulli